Ciao a tutti e benvenuti in questo video Oggi questo video è dedicato agli acquisti riguardanti lo sport e la palestra più una parte hobby Faccio vedere il mio ospite speciale di oggi Allora, oggi abbiamo lui Lui è Zefiro Iniziamo subito con gli acquisti Perché sono tanti Il primo prodotto è questo sacchetto della palestra Questo è 20 litri Ha una tasca laterale Anche se sul sito segnava che potevano entrarci le scarpe Beh, ma insieme possono entrarci in frattito Le scarpe proprio non c'entrano All'interno del borsone ho messo gli altri prodotti Ho acquistato questi guanti Per la palestra A 10 euro Sono buoni Sono durati anche alcuni mesi Anche se non sono abbastanza spessi Secondo me potevano fare il rivestimento interno Questa parte e qui il cuscinetto Un po' più doppia In modo che aumentando i pesi Non si sente il dolore sulle mani Quindi questo è un mi Non benissimo bene, ma non benissimo Poi Questo asciugamano Questa è taglia S La piccola Le misure È molto piccola Corrisponde diciamo a un asciugamano per il rivestimento È comoda per il sudore Più che altro se si suda Sugli attrezzi è troppo piccola Perché o va a coprire solo una parte della schiena Non copre l'intero schienare Un altro è il modello più grande Questa qui è molto molto grande È con questo bordino arancione blu E anche questo piccolo elastico In realtà lo ha anche quest'altro Ed è molto comoda perché ad esempio Quando non lo sale più si può ripiegare E poi si chiude come era all'inizio Con l'elastico Questa sacca Che semplicemente Possiamo dire Questi sacchetti Saccare le scarpe Poi abbiamo Continuiamo sempre Declaton Ho preso questo Che è sempre uno zaino Che si apre Questo qui è 30 litri È molto più grande rispetto a quello precedente Però è meno rigido Ho preso questa maglietta In realtà è una maglietta Di Palla a mano Però era un'offerta Mi piaceva Era comunque per lo sport E quindi L'ho acquistata L'ho presa anche del colore uguale Ma del colore verde Quindi differiscono solo per le taglie E poi ho preso una terza maglietta Però è di pallavolo Questa qui Che è blu Le taglie sono differenti Sempre stesso sito Allora Ho preso De'infradito Che era in offerta Ancora non li ho usati Quindi non so se Qui durerà O inizierà a perdere La pittura Prese sono rosa E poi Ho preso infine Questo tappetino Che in realtà l'ho visto Nello sfogliatoio No ragazza E l'ho cercato Questo tappetino Che dopo ho fatto la doccia Si mette a terra Voi poggiate i piedi Senza passare per Il pavimento della palestra Dello sfogliatoio E così Io ho preso C'erano diverse colorazioni Io l'ho preso Questo blu Nero E arancione E dietro E così Ok Primo pacco Declaton Finiti Ora passiamo A Gli obblini Mi scende Allora Allora Ho preso Questo Che è un asciugamano Per i capelli In questo modo Si indossa In questo modo Poi si mettono tante cose lì da dentro Ovviamente bagnate Non si mettono tante cose lì da dentro E poi si riporta questa parte qui avanti E si lega Con questo elastico Quindi all'orsetto Che già qui In questo modo Si entra mezzo Ok Così Allora Anche se invece dell'orsetto Pogliamo fare un gioco Ma sarebbe stato più facile Anche se il color set è più carino Voilà Sono dei ginasoli Delle toppe Da attaccare Figli Questa è una confezione Da 100 spigli Pugnette Per il trucco Nastro rosso Poi Queste toppe Che sono A far farla Di colori diversi Queste etichette Collana Ispirata Harry Potter Questo Che è un cucchiaio Per far sciogliere La cera Abbinata Con la sua base Ho preso Questa set Di fili Per il punto a croce Questa è di davvero Poco 50 Che devo fare Delle piccole creazioni La busta Non è di Shane È di Tiger Allora Iniziamo Questa Asciugamano Allora A differenza Dell'altra È più stretta È più lunga Anche questa Però Devo dire Copre Tutto l'altrezzo È ottimo Non ha l'elastico Come quell'altro Che poteri Chiudere Però Comunque Va A A Svolgere La sua funzione Queste Ho preso In realtà Due Altre due colorazioni Ho preso sia blu Sia verde militare Poi Ho preso Questa semplice Maglietta nera Perché Ogni volta Non so Come fare Gli abbinamenti Quindi Con il nero Ci sta bene Tutto Quindi È semplicemente Nera All'interno All'interno Ha la scritta Shein Taglia XS E Questa L'ho presa Anche Bianca Poi Ho preso Due reggiseni Sportivi Uno Blu Così Dietro Ed uno Nero Cioè grigio Con le strisce Nere Eccoli qui Allora Questo diceva Entrambi Sostegno alto E hanno le coppe Allora All'interno Quindi Rigirandoli Sono così Quindi Qui all'interno Dice Le misure Per esempio Io ho preso Una M Le misure Il materiale Che non si può Stirare Lavare A 30 gradi Ma La cosa Che ho scoperto Cioè Non avevo capito Dal sito È che Ha le coppe Che sono rimovibili E in realtà Sono Insieme Quindi Unico Questa è la parte esterna Della coppa E questa è la parte interna Cioè Questa Andrebbe La parte Giù Che fa L'effetto push up Infatti Quando mi arrivò Le coppe erano messe Sotto sopra Al contrario E non mi piaceva Come Dava la forma Al seno Invece Adesso Scoprendo le coppe Che devono essere messe Correttamente Già È molto meglio Poi Le ultime cosettine Della palestra Che cosa abbiamo più Leggings Lo sto Sto Per la Pizze Mi 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 Ho Il set Di Quattro Colori Rosa Questo è sempre Senza Cusciture E dovrebbe fare L'effetto Push up Infatti Già si Vede Da qui È la Forma Anche se Non c'è Niente Sono Semplicemente Così Nella Parte in Bassa Hanno Questi Puntini Anche Sul Sedere Hanno Questa Sorta Di Puntini Fare L'effetto Ombra Invece All'interno Hanno Semplicemente La taglia Appressa E ho Preso Rosa Blu Azzurro E poi Azzurro Chiaro Che è sempre Uguale Sono tutti uguali In un set Grigio Vedete Questa è Come è fatta All'interno Grigio E poi Ho preso Verde Acqua Non ci sono Della stessa Della M Anche se Non so perché Questo Rispetto agli altri Come se fosse Più rigida Quindi rimane Ancora più Attaccato Al sedere Rispetto agli altri Tutte queste cose Abbiamo terminato Spero che il video vi sia piaciuto Un bacio Niente Niente Gatto Perché L'avevo Fatto vedere Prima Ciao Ciao